Parliamo un attimo delle isole. Lei ha lanciato il concetto di agricoltori della pesca. Sì, non è che l'ho lanciato io. Ho cominciato a valutare e capire, per esempio, soprattutto su Pellestrina, a tanti pescatori alla fine la pesca è sempre stata una cosa, boh, nessuno sa niente, no? Di fatto invece la pesca è sempre stata una nostra grande tradizione, dobbiamo aiutarla. Detto che non abbiamo strumenti, però il buon senso è parlare con gli stessi pescatori, con le cooperative di pesca, secondo me ci fa dire che dobbiamo incontrarci, dobbiamo capire, no? Per esempio la gestione di aree che sono da concessionare in Laguna di Venezia possono essere utilizzate ma in maniera un po' diversa da prima, cioè come da quello che sto cercando di capire ma poi sicuramente mi spiegheranno meglio, riusciremo a trovare, dico come titolo del giornale, insomma, bisogna cominciare a renderle più produttive queste aree che sono concessionate. Allora abbiamo le migliori cappe probabilmente del mondo, perché le cappe, io ho cominciato a chiedere ai tecnici che gestiscono queste cose, perché come città metropolitana abbiamo la delega sulla pesca e mi dicono, guardate che non è vero che sono inquinate le cappe della laguna, anzi sono buonissime, cioè sono veramente buone, noi le analizziamo continuamente, sono molto buone, il punto è che probabilmente bisogna allevarle in maniera diversa, cioè nelle aree di pesca che sono state assegnate o che non sono ancora libere, bisogna immaginare una raccolta, una semina, una raccolta come se fosse un agricoltore, vanno seminate, va arato il terreno, sotto acqua, vengono tolte le alghe, va tenuto pulito, viene fatta la semina, la semina viene raccolta da un'area molto grande che è di proprietà della città metropolitana, anche su questo bisogna fare una serie di ragionamenti, di valutazioni, di cambiamenti per mettere nella gestione di queste cose, però poi la semina viene fatta, si deve tenere pulito, diciamo in qualche modo, arieggiato il terreno e poi viene fatta la raccolta. Ecco, io sono fiducioso che troveremo magari se persone anziane che non hanno poi più avuto voglia di continuare, giovani, magari da pelestrina, io mi auguro soprattutto, che abbiano voglia di prendersi le concessioni a mare, vedremo di aiutarli il più possibile, concessioni scusate, concessioni in laguna, perché secondo me la pesca va aiutata, va rilanciata e poi va capito se è possibile dare una mano a qualche, anche lì, giovane, dico io perché spero sempre nei giovani, che abbia voglia di rischiare sempre la pelestrina, ma anche nelle altre isole, ma a pelestrina soprattutto ci sono anche gli spazi, per fare qualche piccola attività per sgusciare i mitili, quelli vengono invece allevati, quelli sia a mare, sgusciati, messi sotto vuoto, messi un marchio di provenienza e mandati via in tutto il mondo, sarebbe un'attività preziosissima per un'isola del Già, perché avrebbe un impegno di manodopera femminile molto alto. E ci eviterebbe anche di importare queste cose? Guardi, in questo momento qua, veramente abbiamo l'oro sotto i piedi.